Mi ricordo molto bene ovviamente dove fossi l'11 settembre, ero in un locale a Roma e stavo facendo le prove di uno spettacolo teatrale che avrebbe debuttato di lì a poco. Era un spettacolo comico, divertente, con Max Giuss e altri attori. Mi telefonò mia mamma, mi telefonò mia mamma allarmatissima, mi disse che stava vedendo delle immagini sconvolgenti in tv, di tornare a casa. Mi disse di tornare a casa come se fosse un pericolo imminente e pauroso, anche da un punto di vista geografico per me, era tutto sommato una raccomandazione folle. Eppure tornammo tutti a casa, terrorizzati, e insomma poi ci siamo resi conto di quello che stava accadendo. Lo spettacolo ha debuttato un mese dopo e la cosa che più mi è rimasta impressa è che i teatri erano vuoti. Cioè c'era un'atmosfera cupa, pesante, di grande paura, un'atmosfera che mi ha ricordato un po' quella che ha preceduto il lockdown di marzo del 2020. Cioè la paura di qualcosa che non riesci ancora a comprendere, a decifrare, a codificare fino in fondo.